Ciao a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Video girato all'aperto con la speranza che il vento non vada a dare fastidio alla registrazione. Mi è impossibile registrare dentro casa, fa un caldo incredibile, ma d'altronde siamo in Sardegna e va bene così. In ogni caso, come avrete già detto qua sotto nel titolo, oggi faremo un po' di chiacchiere. In realtà è una rubrica, non chiamiamo una rubrica, si può chiamare rubrica, che vorrei portare nel fine settimana. Adesso voglio fare una prova, siamo a metà settimana, oggi è mercoledì, probabilmente questo video lo vedrete proprio la sera di mercoledì. Voglio vedere come va. Se può far piacere, insomma, un video magari recap di quello che capita la settimana, ogni settimana, quindi magari fare o la domenica o magari il lunedì mattina. Più probabilmente la domenica, perché, insomma, andiamo a concludere la settimana, no? E di quello che succede nell'ambiente Cagliari, ovviamente per quanto concerne il calciomercato. Ovviamente sarà una cosa che vorrei portare solamente in periodo a calciomercato. Fatemi sapere magari se vi può far piacere. In ogni caso, oggi parleremo delle parole di Bonato, delle dichiarazioni di Bonato fatte in conferenza stampa nella giornata di ieri, dove ha presentato, insomma, la stagione, e poi andremo a parlare della, ormai, ufficialità. Lo si può dire, non è ufficiale effettivamente perché non ha ancora firmato il contratto, ma Youngton è praticamente un nuovo giocatore del Cagliari. Lo ha presentato lo stesso Bonato ieri in conferenza stampa. Lo ha dato praticamente per fatto, cioè stava facendo le visite mediche ieri, e oggi, mi sembra, no, proprio ieri notte mi sa che è sbarcato a Cagliari, e oggi tecnicamente dovrebbe arrivare l'ufficialità. Oggi, ripeto, mercoledì. Non lo so sinceramente quando arriverà la firma sul contratto, in ogni caso, è praticamente tutto tutto fatto. Comunque, dichiarazioni di Bonato. Allora, apro una parentesi per dirvi subito una cosa. Un direttore sportivo che parla in questa maniera, che ha una capacità comunicativa, in questo modo, come Bonato, non ce l'abbiamo avuto negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni. Perché Capo Zucca, ce lo ricordiamo tutti, come un elemento abbastanza bravo a livello tecnico, cioè il suo lavoro lo sapeva fare, secondo me, ma a livello di dichiarazioni e, insomma, anche con diverse uscite, non se l'è cavata alla grande. Stesso discorso per quanto riguarda Carli, stesso discorso per quanto riguarda Carta, Rossi, insomma, tutti questi direttori sportivi che hanno fatto un anno, due anni, non di più. Insomma, Bonato c'è da poco. Bonato è arrivato proprio dopo l'esonio di Capo Zucca, è arrivato Bonato, che dire, secondo me non è male, cioè è un direttore sportivo che, prima di tutto, ha fatto un mercato di gennaio, secondo me, discreto, mi sto riferendo ovviamente a questo 2023, ma soprattutto è una persona che parla chiaro, una persona che mi sembra abbastanza diretta, senza peli sulla lingua e senza filtri, sia nei confronti dei giornalisti, ma anche nei confronti dei tifosi, ed è una cosa da non escludere, ragazzi, perché noi ce lo ricordiamo tutti quanti Capo Zucca, no? Ecco. Mettete a confronto Capo Zucca, le dichiarazioni di Capo Zucca in conferenza stampa dell'anno scorso, appena siamo stati retrocessi, quella famosa conferenza stampa con passetti imbarazzante, con questa conferenza stampa, che sì, sono due avvenimenti diversi, perché l'anno scorso venivamo da una retrocessione, adesso da una promozione, ovviamente, l'umore generale dell'ambiente è diverso, però il modo di comunicare rimane lo stesso, e il modo in cui ho comunicato ieri Bonato è abbastanza importante e notevole, ok? Notevole. Allora, se guardo questa parte perché ho le dichiarazioni qui sul computer, quindi capirete il perché. Non andremo a leggerle tutte quante, mi sono evidenziato delle cose che, insomma, vorrei snocciolare un pochettino. Allora, partirei proprio dalla prima parte, cioè la presentazione che ha fatto lui in generale. La nostra idea di base è preservare la competitività tecnica avendo cura della sostenibilità economica. È una fase di difficoltà finanziaria, e quindi le scelte andranno fatte tenendo conto di questi parametri. Quindi, classico discorso, insomma, di mercato di opportunità, ok? Sarà un calcio a mercato fatto di opportunità. Abbiamo costruito una rosa per la B, ora dobbiamo adattare la stessa A alla Serie A, con la necessità di fare diverse scelte ponderate che possano incidere per i prossimi anni. Quindi, bisogna essere cauti, bisogna stare tranquilli, fare un mercato giusto per puntellare la rosa e renderla una squadra competitiva per la Serie A. e bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti, perché quindi il calcio a mercato può essere una cosa che può, questo calcio a mercato può ripercuotersi poi negli anni, quindi bisogna farlo bene. Abbiamo un occhio di riguardo per i profili giovani, che hanno motivazione. Metteremo anche esperienza nella categoria e cerchiamo di fare anche qualche operazione di rilancio. Qua abbiamo tre perfetti esempi. L'operazione di rilancio è quella chiaramente di Yankto, quindi un giocatore che negli ultimi anni, insomma, si è un po' perso, soprattutto nell'ultimo periodo, anche per discorsi, insomma, extracampo, che non andrò a, ragazzi, non andrò ad approfondire, perché a me sembra abbastanza normale nel 2023 quello che è Yankto, e quindi, insomma, lui, a me importa che lui faccia bene come giocatore. Poi può essere quello che vuole nella vita, può essere qualunque cosa. A me non veramente, non entriamo in questi discorsi suoi, perché davvero, ragazzi, a noi interessa davvero quello che deve fare in campo. A noi interessa il calciatore, e interessa la maglia. Non ci interessa altro, non ci interessa altro. Non entro in altri discorsi. Quindi operazione di rilancio, in questo senso, però parlando del profilo calcistico, Yankto ovviamente negli ultimi anni non ha fatto grandi cose, cioè, io me lo ricordo, gli anni della Sampdoria era effettivamente un giocatore di buon livello, anche con l'Udinese non ha fatto male, però, insomma, queste ultime due, tre stagioni non ha fatto granché. Giovani che hanno motivazione. Il profilo che in questo momento il Cagliari sta sondando, e che comunque è molto vicino, in realtà, a vestire la maglia del Cagliari, è quello di Oristanio, calciatore che dovrebbe arrivare dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per i Nerazzurri, giocatore che, chiaramente, a me sembra abbastanza interessante, è appunto giovane, che ha motivazione, tra l'altro, alla sua prima apparizione in Serie A. E poi metteremo anche esperienza nella categoria, e in questi minuti, anzi, in questi minuti, in queste ore, anzi, soprattutto nella giornata di oggi, è spuntata fuori la notizia che il Cagliari sarebbe a un passo da Gianmarco Ferrari del Sassuolo. Adesso non so se è vera questa cosa, però potrebbe essere effettivamente un difensore di esperienza che conosce la categoria e tutto quanto. Andando avanti, quindi, questi tre prototipi di giocatori stiamo ricercando come società. Poi, tanti ragazzi come Dosseno, Luvum, Moraduno, Vici e Makumbu, meritano la chance di giocarsi alla Serie A, altri hanno la voglia di mettersela come... hanno la voglia di meritarsela, scusate, come Nand, Zerog, Pavoletti e Lapadula, e poi abbiamo lo zucco, lo duro sardo, quindi fa, insomma, un po' di elenchi per quanto riguarda calciatori che, tecnicamente, dovrebbero rimanere. Mi auguro per Bonato che siano effettivamente delle conferme a questo punto, perché se tu mi parli di Dosseno, Luvum, Moraduno, e Makumbu, meritano la chance di giocarsi in Serie A, mi auguro per loro che rimangano in Serie A e non come Capo Zucca che ha detto Carboni me lo terrei a vita e poi lo va a accedere al Monza. Questo è quello che mi riferisco a una capacità comunicativa, ma soprattutto anche a una capacità di operare e parola, fatti, devono concidere, non, insomma, soltanto parole. Quindi, vabbè, questo è il discorso. Profili mancanti eccessioni. Il Cagliari deve lavorare nel reparto offensivo e difensivo, reparti meno toccati finora. Qua, tra l'altro, cosa importante, qua dice questa cosa, cioè reparto offensivo e difensivo, quindi attacco e difesa. Il fatto è che il Cagliari, per il momento, ha acquistato due centrocampisti. Non lo so. Sinceramente non lo so. Sarà che vuole, insomma, fare prima le cose semplici e poi vuole effettivamente operare sulle cose un po' più complicate, sulle cose un po' più cicciose da risolvere? Il Cagliari, ovviamente, mi riferisco, e la società in generale, possibile, possibile. Altra cosa importante, poi sappiamo chi non rientra nel progetto tecnico o chi ha bisogno di fare il minutaggio. Quindi, tecnicamente, la società sa già chi mandar via e chi, invece, prestare o comunque, in un certo senso, tenere, ma dosare con il minutaggio. Costruzione e sfoltire. Abbiamo obiettivi e desideri. Tutto deve essere sposato totalmente da chi viene a Cagliari. Quindi, chi deve venire a Cagliari deve, insomma, essere pronto a dare tutto, come giusto che sia, d'altronde. Ma queste sono parole abbastanza ovvie, ok? Cioè, se un giocatore non è motivato, meglio che non venga. Oristanio, Nandez e Pereiro. Qua, tra l'altro, fa già un approfondimento per quanto riguarda Oristanio. Nandez sappiamo l'attaccamento al Cagliari, sappiamo quanto valga per tutti noi, entra in gioco l'aspetto economico e noi faremo tutto il possibile per trovare una soluzione. Ovviamente, Nandez è ancora in ballo il suo discorso per quanto riguarda il rinnovo. Questo, insomma, queste dichiarazioni di Bonato fanno capire che, in un certo senso, c'è una volontà da parte del Cagliari di rinnovare il contratto di Nandez, ma l'aspetto economico è abbastanza importante e quindi bisogna valutare la cosa nei limiti economici anche della stessa società. Però, io presumo, salvo imprevisti, che Nandez sia un giocatore del Cagliari anche per la prossima annata. Pereiro, invece, Pereiro dobbiamo concedergli una soluzione alternativa non rientra nel progetto della squadra. Capito? Oristanio, prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Quindi, questa è l'operazione con la quale il Cagliari vuole prendere Oristanio. Non prestito secco, non prestito con diritto di riscatto e basta. C'è anche il contro riscatto per l'Inter. Per il momento non rivelato il contro riscatto, semplicemente ci dovrebbe essere un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Per quanto riguarda l'attacco e qua c'è una cosa molto importante. Partiremo con il 4-4-2. Cercheremo le caratteristiche che completano il reparto attaccanti di gamba e fisicità. Uno che abbia le caratteristiche da prima punta e uno che abbia le caratteristiche di seconda punta. Quindi, una cosa molto importante. Cioè, prima di tutto, chiarisce il fatto che giocheremo con il 4-4-2 di base. Poi, ovviamente, ragazzi, durante la stagione si cambia e lo stesso Ranieri lo sa più di tutti. Cioè, il Cagliari spesso ha giocato anche con la difesa 3, ha giocato con il rombo al centro campo. Quindi, 4-4-2 sarà il modulo base. Poi, da lì si andranno a sviluppare altre impostazioni e altri sistemi di gioco. Però, sull'attacco è molto importante quello che dice Bonato perché vogliono cercare due attaccanti. Non uno, due. Perché, prima di tutto, è andato via Prelec, ragazzi, c'è da contare anche questo. È andato via Prelec, è tornato in prestito al Tirol e in questo momento in Rosa abbiamo Pavoletti, la Padula e l'Uvumbo, gli unici tre effettivi attaccanti. Poi, se contiamo anche Grieger, vabbè, Grieger è della primavera, però sono quattro. Quindi, effettivamente, si cerca una prima punta, quindi magari uno ha dovere la Padula e una seconda punta in grado magari di essere, no, scusate, una prima punta in grado, ecco, di fare magari da riserva, in questo senso, e una seconda punta che possa affiancare la Padula. Ok? Adesso, non so, adesso non ha fatto nomi forse di attaccanti, no, non ne ha fatto nomi di attaccanti, però, nelle ultime ore si è parlato di Gambiadini, si è parlato di Occhereche, di altri attaccanti, insomma, ma, veri e propri nomi e trattative per il momento solo Gambiadini sembrerebbe il più vicino, ok? Il più quotato a vestire la maglia del Cagliari, però, mi auguro, mi auguro veramente che arrivino altre idee, perché, a me personalmente Gambiadini non piace, ve lo dico con tutta sincerità. Palomino e Prati, anche qua, due obiettivi che sono stati, insomma, in un certo senso già snocciolati nelle scorse settimane, sono due opposti della strategia tecnica, esperienza e prospettiva, sono due nomi monitorati su cui stiamo facendo valutazioni, quindi non nasconde, lui non nasconde niente, cioè Bonapo non nasconde niente, ragazzi, Palomino e Prati? Ok, sì, stiamo facendo delle valutazioni sui calciatori, quindi quello che scrivono i giornali effettivamente è vero, cioè il Cagliari è su Prati? Sì, Palomino è su Prati? Cioè, Palomino è su, il Cagliari è su Palomino? Sì, tutte le operazioni andranno in posto se ci saranno i parametri rispettati, cioè economico, tecnico e tattico, ovviamente, quello che aveva detto anche prima sul discorso che si cercheranno di fare delle valutazioni importanti anche in conto delle casse e delle casse sociali. Cessioni importanti, il tesoretto l'abbiamo messo da parte e ci sarà utile, ovviamente fa riferimento alla cessione di Bellanova che ci ha fruttato, adesso se non mi ricordo male, 7 milioni di euro. Sì, mi sembra 7 milioni, 8 milioni, poi con il bonus si arriva quasi a 10. Il mercato di B parte dopo rispetto a quello di A, dobbiamo capire chi dei nostri avrà delle richieste e faremo delle dovute valutazioni. Il mercato ovviamente terminerà il primo settembre. Sì, anche questo è un aspetto importante, cioè, perché molti calciatori del Cagliari sono richiesti anche dalla serie B. e quindi sarà interessante capire quali di questi potrebbero partire subito, quali di questi potrebbero partire dopo. Molte operazioni, lo abbiamo visto anche nelle scorse sessioni estive, Cagliari opera spesso, tantissimo, negli ultimi mesi, cioè negli ultimi giorni di agosto, con operazioni sia in entrata che in uscita, cioè, quante volte l'abbiamo visto. Anche lo stesso Capradossi è arrivato l'ultimo giorno di mercato estivo o anche il mercato famoso della retrocessione, sono arrivati, l'ultimo giorno di mercato sono arrivati Keita e Caceres, cioè, capite bene, poi, sempre nell'ultimo giorno di mercato, di questo mercato, ovviamente, con Capradossi si era parlato di una cessione di perere allo Spezia, Pavoletti allo Spezia, Pavoletti al Bari, cioè, cose veramente dell'altro mondo che poi alla fine non si è fatto nulla. Però, comunque, tornando alle dichiarazioni, adesso, sì, non c'è più altro da dire, sono parole molto importanti quelle di Bonato, parole chiare, parole molto, 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 anche in un certo senso confortanti, perché, ripeto, un direttore sportivo che parla così chiaramente è soddisfacente per un tifoso e anche per un giornalista, secondo me, per certi versi. Non mi sento da dire altro, cioè, sono dichiarazioni abbastanza chiare che non vanno nemmeno spiegate, in un certo senso, perché questo è, sono, è stato molto, molto diretto, è stato molto esaustivo e mi fa molto piacere. Adesso, arrivando a Janto, allora, su Janto, come stavo dicendo prima, cioè, il giocatore non arriva da un periodo bellissimo, a livello di campo, a livello extracampo. L'ultima stagione ha giocato allo Sparta Praga, impresso allo Sparta Praga, lui è di proprietà del Getafe, ha giocato 15 partite, segnando appena un gol. Poi, in generale, lui in Serie A ha giocato tanto, con la maglia di Sampdoria, e Udinese, 155 presenze, 17 gol, quindi non stiamo parlando di un centrocampista particolarmente prolifico, io lo vedo molto simile a ROG per caratteristiche, in grado di giocare sia come mezzala che come esterno, quindi magari c'è anche un po' più di corsa rispetto a ROG, il ROG attuale ovviamente non si può definire tale, il ROG di qualche anno fa, diciamolo, il ROG prima dei crociati, ecco, lo vedo molto così, Ghianto. Non ho parlato del contratto, ingaggio da un milione di euro, ma attenzione, perché sarà un contratto biennale, percepirà 500 mila euro in ogni anno, quindi 500 mila euro il primo anno, 500 mila il secondo anno, quindi in totale un milione di euro, più un'opzione di terzo anno che è possibile valutare in caso di possibili magari clausole che non sono state però rivelate. Quindi i ruoli sono quello di mezzala, volendo io l'ho messo anche quasi come trequartista, ma ovviamente il ruolo forse migliore che riesce a fare e in cui forse Corranieri ha fatto meglio anche nella Sampdoria e quello dell'esterno sinistro, quindi in un 4-4-2 e quindi anche per quello che Bonato fa riferimento a quel modulo, perché un acquisto come Ghianto è chiaramente volto a passare a un 4-4-2. Ruolo in cui tra l'altro noi abbiamo giocato, cioè noi abbiamo giocato con quel modulo, ragazzi, noi abbiamo giocato con quel modulo anche in questa stagione e spesso in quel ruolo è stato messo Lella, ok? Lella che è prettamente un centrocampista di rottura, di corsa, però anche di buona quantità ecco, in generale. Un giocatore che non è proprio al suo agio se non è in quel ruolo, però comunque il suo l'ha fatto. Ruolo di inserimento, è stato messo quasi come incursore. Poi chiaramente quel ruolo lo può interpretare l'Uvumbo e lo può interpretare volendo anche un bipardo, quindi cioè il 4-4-2 non è non è un modulo che può far male al Cagliari, anzi, secondo me è una buona soluzione. Poi ripeto, ci saranno tante opportunità per cambiare modulo durante la stagione, il Cagliari può cambiare pelle, ok? Può cambiare pelle. Ultime cose su Bianco, vabbè, ovviamente anche per lui 45 presenze con la maglia della Nazionale della Repubblica Ceca, un 4-goal per lui che non sono male, tra l'altro ha giocato anche l'ultimo europeo. È un acquisto buono per la Serie A, ripeto, però adesso concentriamoci sulla difesa e sull'attacco. Questo è ciò che mi auguro da parte della società che arrivi al più presto, insomma, arrivano al più presto colpi in difesa e in attacco, perché tra l'altro sulla difesa dobbiamo vedere anche come si svilupperà nella questione Terzini. Tra l'altro adesso flash incredibile, Scuffette dovrebbe essere vicino a vestire la maglia del Cagliari, Scuffette portiere del Cluj, per quanto riguarda poi tornando alla difesa dovrebbe essere anche qua abbastanza nel vivo la trattativa tra Ugello e il Cagliari per quanto riguarda ovviamente con la Sampdoria, trattativa che potrebbe tra l'altro coinvolgere Barreca, potrebbe coinvolgere anche lo stesso Gaston Pereiro, Gaston Pereiro che è a quanto pare cercato anche dalla Sampdoria, chissà magari un doppio scambio, magari al Cagliari arrivano Gabbiadini a Ugello e alla Sampdoria andrebbero Barreca, Gaston Pereiro, potrebbe essere una trattativa che potrebbe magari essere staccata oppure collegata, adesso vedremo un po' come si svilupperà. In ogni caso, fatemi sapere che sarebbe stato ovviamente di tutto questo, parole di Bonato, Ianto e tutto quanto, io vi saluto, forza, grazie a voi sempre e ciao ciao!